cari amici di media 24 un cordiale e benvenuto opposizioni divise opposizioni in crisi in particolare crisi del partito democratico una crisi che ormai dura da tempo e che sta giungendo ora al suo epilogo il nostro punto la pace contesa potremmo titolare così il nostro commento di oggi se la politica italiana si divide tra pro e contro l'invio delle armi all'ucraina lo stesso accade tra chi è pro o contro la pace si tratta di una semplificazione ovviamente sarebbe meglio dire che la contesa è tra chi vuole la pace con le armi e chi la vorrebbe senza ma insomma la premessa è solo per parlare della sinistra o meglio di quel che resta del partito democratico che della sinistra è stato dal 2007 ad oggi il principale punto di riferimento il pd come sappiamo è nato come sintesi delle tradizioni cattolico democratica e comunista che con il cosiddetto bipolarismo imperfetto della prima repubblica doveva nascere una cosa nuova in cui le vecchie radici politiche democristiane e comuniste si scioglievano all'interno di un nuovo contenitore in cui tutto si mescolava in un nuovo progetto che guardasse al nuovo mondo che si era aperto dopo la caduta del muro di berlino ma alla fine a conti fatti il pd è rimasto soltanto una cosa sempre in bilico sul crinale di una prospettiva politica ambigua in cui non si capiva distintamente il vero orizzonte a cui guardava un po di qua e un po di là né carne né pesce un po di lotta e un po di governo un po nelle piazze un po nelle stanze dei bottoni come ora in piazza per chiedere la pace in ucraina ma allo stesso tempo a favore dell'invio delle armi questa ambiguità questa incapacità di chiamare le cose con il loro nome questa mancanza di chiarezza sull'identità politica che si voleva rappresentare sono venute prepotentemente a galla e hanno fatto scoppiare il bubone fino ad un sogno di mezzo autunno con il povero enrico letta un galantuomo tornato dalla francia per guidare il partito democratico alla disfatta letta le ha tentate tutte ma il suo tentativo di scaricare all'esterno con il cosiddetto campo largo le divisioni interne al suo partito accontentando le correnti che lo tiravano per la giacca da una parte e dall'altra e clamorosamente fallito con il bacio traditore di calenda e l'alleanza con la sinistra di frato i anni che dopo aver lucrato il vantaggio di presentarsi col pd ha già fatto intendere di guardare ai 5 stelle senza se e senza ma certo in questi anni di turbolenza politica di traballante crisi economica di pandemia e ora di guerra il pd è stato un baluardo politico che ha assicurato il radicamento dell'italia all'europa e alla difesa della costituzione repubblicana ma non è bastato è mancata una bandiera un senso un orizzonte politico chi vincerà la guida all'opposizione del governo la linea della sinistra destra populista dei 5 stelle o la linea liberale del terzo polo lo deciderà paradossalmente proprio il pd quando sancirà definitivamente la fine del suo progetto politico l'agenzia per l'ambiente del veneto ha comunicato al comune di san donai il rientro a livello verde del pm 10 a partire dalla giornata di sabato scorso per il sopraggiunto arrivo di condizioni atmosferiche dispersive una buona notizia e sempre il comune di san donai di piave ha aderito al servizio di micro raccolta dell'amianto promosso dal consiglio di bacino venezia ambiente in collaborazione con veritas per il comune di san donai di piave il consiglio di bacino ha messo a disposizione dei fondi per un massimo di 64 interventi di micro raccolta attraverso un contributo di 250 euro per singolo utente che ne farà richiesta il servizio di micro raccolta sarà attivo a partire dal 10 novembre prossimo data dalla quale gli utenti interessati possono rivolgersi a veritas per ricevere tutta la modulistica e le relative informazioni per inoltrare la domanda di attivazione del servizio e riparte gli asvo nauti alla sua quarta edizione il progetto didattico gratuito di educazione ambientale alla sostenibilità promosso da asvo spia sul territorio degli 11 comuni soci della zona del portoguarese dedicato alle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo e secondo grado l'obiettivo è accompagnare i giovani verso il futuro facendoli riflettere sull'importante ruolo che possono avere in un mondo in continua evoluzione in cui raccolta differenziata economia circolare uso consapevole delle risorse e buone pratiche saranno fondamentali per la sostenibilità per presentare ai docenti tutte le nuove proposte in programma un open day di presentazione pubblica lunedì 14 novembre presso l'aula magna del liceo 25 aprile in via dei martiri della libertà a portogruaro l'open day sarà fruibile sia a distanza che in presenza in due turni di presentazione dalle 15 alle 16 dedicato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio di asvo e dalle 17 alle 18 dedicato ai docenti della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado sempre del territorio curato da asvo e l'inquinamento causato dai rifiuti in plastica determinato dalla dispersione e dall'accumulo di materie plastiche nell'ambiente provoca danni all'habitat di fauna e flora selvatica oltre a quello umano il progetto grazie a un contributo che il comune di fiume veneto ha ottenuto dalla regione friuli venezia giulia prevede l'installazione di erogatori d'acqua fresca e microfiltrata i primi 11 sono stati installati negli uffici pubblici e soprattutto nelle scuole primaria e secondaria ciò permetterà ai dipendenti agli utenti agli insegnanti agli studenti di poter riempire le proprie borracce eliminando bottiglie e bicchieri di plastica usegetta dai distributori automatici tra le iniziative di informazione e sensibilizzazione sui comportamenti da adottare sono stati implementati strumenti di comunicazione tradizionale e digitale come dei pieghevoli e video che raccontino la storia di alcuni rifiuti di plastica gettati in luoghi caratteristici del territorio fiumano e spostiamoci ai temi della sanità in particolare dell'azienda sanitaria numero 4 del veneto orientale marcello lomele 50 anni originario di bari e il nuovo direttore dell'unità operativa di anatomia patologica la nomine è stata formalizzata in questi giorni dal direttore generale dell'ULS Mauro Filippi il dottor lomele si è laureato in medicina all'università di Bari dove ha conseguito anche la specializzazione in anatomia patologica ha iniziato la propria carriera professionale l'azienda ospedaliero universitaria ospedali riuniti di foggia poi si è trasferito in veneto dove per 15 anni ha lavorato come anatomo patologo nell'azienda ospedale università di padova dove ha potuto sviluppare ulteriormente le capacità professionali affiancando il direttore dell'anatomia patologica istituzione storica dell'ateneo patavino il professor angelo paolo dei toss e il dipartimento di medicina trasfusionale di pordenone è stato certificato iso 9001 2015 si sono infatti conclusi i tre giorni di audit da parte di bureau feritas agenzia di certificazione che ha visitato le sedi del dipartimento per verificare il rispetto di tutti i requisiti i risultati ottenuti evidenzia il dottor andrea bontadini direttore del dipartimento di medicina trasfusionale sono il risultato di un lavoro di squadra che ha fatto crescere professionalmente tutto il personale della medicina trasfusionale ed una modalità di lavoro impostata sul sistema di gestione della qualità che è diventato parte integrante della loro attività quotidiana e si sono tenute nelle scorse settimane le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali in seno alle varie delegazioni territoriali di conf commercio portogruaro bibione caurle per il periodo 2022-2027 in particolare si sono svolte le elezioni per la delegazione territoriale di caurle che hanno visto la partecipazione di oltre un centinaio di associati il nuovo consiglio direttivo di conf commercio caurle risulta ora composto da marco dorigo del settore alimentare corrado sandring del comparto non alimentare manrico pedrina attuale presidente di conf commercio mandamento di portogruaro bibione caurle per il settore servizi daniele marchesan per la logistica mico zeni per il turismo massimiliano de micco riccardo rotmuller e riccardo martinelli marisa corazza e vanni buoso come rappresentanti territoriali nella serata di giovedì 3 novembre scorso si è tenuta la prima riunione del nuovo consiglio che ha portato la conferma di corrado santrin nel nuovo ruolo di delegato comunale presidente della delegazione di caurle una volta completate tutte le operazioni di voto le varie delegazioni territoriali saranno chiamate ad eleggere la giunta mandamentale al cui interno sarà scelto il presidente del mandamento di conf commercio portogruaro bibione e caurle e si è riunito oggi il consiglio comunale di ronchi dei legionari per discutere approvare una serie di deliberazioni tra le quali segnaliamo alcune variazioni estorni al bilancio di previsione 2022 2024 l'approvazione dell'atto aggiuntivo per la modifica della concessione in diritto di superficie a favore della società aeroporto friuli venezia giulia spa su aree di proprietà del comune di ronchi dei legionari ove è realizzato il polo intermodale e l'approvazione del regolamento inerente la disciplina per la fase esecutiva relativa alle contestazioni e alle riserve per i contratti di appalto di lavori servizi e forniture l'ordine del giorno prevede anche la discussione di due interrogazioni una presentata dal consigliere comunale sala bragato in merito ad interventi per garantire la corretta aereazione e temperatura degli edifici scolastici e una urgente presentata dai consiglieri comunali marocco borgia vecchiette conte e a campora in merito alla prossima nomina della presidenza dell'ambito socio assistenziale del basso isontino e si è riunita per la quarta seduta del 2022 la commissione dei prezzi al consumo del comune di pordenone presiduta dall'assessore ai servizi demografici elettorali e statistici walter de bortoli obiettivo la verifica della corretta rilevazione dei prezzi presso negozi pubblici esercizi studi medici e professionali oltre agli affitti finalizzata al calcolo dell'inflazione a livello locale e nazionale il trimestre luglio settembre vede crescere i prezzi in tutti gli ambiti da quello alimentare a quello dei servizi con l'unica eccezione del capitolo delle comunicazioni in lieve flessione le tensioni inflazionistiche hanno colpito anche il capoluogo pordenonese i prezzi a settembre sono cresciuti del 9 e 2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente purtroppo questa crescita innescata dall'aumento del costo dell'approvvigionamento energetico si è poi diffusa in tutti i settori in particolare i prezzi dei beni alimentari e delle bevante analcoliche sono cresciuti del 12 e 3 per cento e oggi si è riunita la sesta commissione consigliare del comune di portogruaro per approvare alcune variazioni di bilancio mentre mercoledì prossimo sarà la volta della quarta commissione che discuterà l'acquisizione di alcune aree per uso pubblico ed ora facciamo una breve punto sulla situazione politica del comune di portogruaro che pare non aver ancora superato le difficoltà di qualche settimana fa e a proposito di portogruaro non sembrano sedate le tensioni politiche interne alla maggioranza che sostiene il sindaco florio favero andiamo con ordine alcune settimane fa il primo cittadino di portogruaro aveva presentato le proprie dimissioni per il venir meno delle condizioni politiche che avevano dato vita alla coalizione di governo del comune ma prima dello scadere del periodo previsto per il commissariamento il primo cittadino le ha ritirate nell'intento di ricostruire una maggioranza di governo tutto sembrava andare nella direzione immaginata ma nel frattempo sono intervenute delle situazioni impreviste che hanno aperto scenari nuovi e inaspettati dopo l'uscita del consigliere mario pizzolitto entrato nel gruppo misto in questi giorni altri due consiglieri comunali maria teresa senatore e renato stival entrambi appartenenti al gruppo che si richiama alla stessa consigliera senatore con una nota del 4 novembre scorso inviata al presidente del consiglio hanno chiesto di entrare nel gruppo misto vogliamo essere utili alla comunità saremo attenti alle esigenze di tutta portogruaro rappresenteremo le istanze dei cittadini e valuteremo con la massima attenzione quanto si andrà di volta in volta a proporre alla votazione del consiglio comunale questa è la dichiarazione dei nuovi componenti del gruppo misto le tematiche da evidenziare sono molteplici dalla situazione ambientale alla situazione economica delle aziende e delle famiglie alla situazione sociale allo stato del nostro ospedale senza tralasciare i gravissimi problemi dell'ospice dell'ospedale di comunità alle problematiche della viabilità comunale intercomunale alla situazione della rete acquedottistica di fognatura la situazione delle partecipate e delle partecipate in house siamo e saremo sottolineano i rappresentanti del gruppo misto a disposizione di portogruaro dei cittadini di portogruaro con una visione della politica diversa che non chiede careghe ma vuole fatti questo in sintesi il documento firmato dai rappresentanti del nuovo gruppo consigliare che sarà determinante per l'approvazione degli atti giuntali perché a leggere i numeri del consiglio la maggioranza dispone di otto voti contro i sei della minoranza e i tre del nuovo gruppo misto tutto questo è avvenuto lo stesso giorno del varo della nuova giunta comunale da parte del sindaco florio favero nel nuovo esecutivo comunale sono stati confermati gli assessori luigi geronazzo pietro rambuschi e anna fagotto mentre sono stati nominati i nuovi componenti della giunta bertilla bravo guido giuseppine e anna fagotto cosa succederà domani non è dato sapere certo il cammino del sindaco non sarà dei più facili visto che il varo del nuovo esecutivo comunale anziché rinserrare le fila della maggioranza ha provocato una rottura che ha reso ancor più precaria la stabilità del governo comunale a san michele al tagliamento si è svolta la cerimonia di commemorazione ai caduti aldo curtarelli ha intervistato il sindaco flavio maurutto oggi abbiamo commemorato la solennità del 4 novembre sia nella parte vecchia del nostro comune quindi a san michele vecchio poi con una celebrazione rappresentata da don marco e poi con il saluto finale alla in piazza in piazza libertà qui davanti il municipio una cerimonia che qualche modo ho voluto ricordare nel nei principi che queste dei sacrifici di questi ragazzi che hanno sacrificato la loro vita proprio da giovani con per i loro ideali e che ci hanno ancora e che ci garantiscono ancora la libertà ecco questo è stato concetto che ho voluto sottolineare nel senso che oggi noi viviamo di questa libertà viviamo di questa di questo principio che qualche modo ci consente di vivere al meglio tutte le nostre giornate e questa libertà io credo sia una grande cosa che probabilmente oggi non non diamo un peso sostanziale a quanto a quanto oggi possiamo fare nella libertà di agire nella libertà di pensare nella libertà di poter in qualche modo scegliere e questo è il frutto di tanti sacrifici che sono stati fatti nel passato quindi scuotersi un po' da questo torpore per dire che e ricordare queste persone che hanno dato questo che si danno questo tipo di possibilità credo sia una cosa importante ho ricordato anche la solidarietà che è sopravenuta nell'ambito di del popolo ucranio qui abbiamo ospitato fino a 150 persone che in qualche modo arrivate dall'ucraina sono state accolte secondo secondo me e secondo anche il signor prefetto in maniera molto attenta molto vera insomma e anche in forma molto solidale e con tutte le cure che insomma servono per queste persone che in questo momento vivono lo status di profugo un ringraziamento anche la cooperativa che le ha sostenute in particolare la Qualitas che da sei mesi a questa parte ha garantito loro condizioni di vita e anche condizioni di contatto con la loro terra in maniera quanto mai importante ma soprattutto anche umanamente diciamo che ha tenuto conto della loro esperienza anche umana mettendo a disposizione medici mettendo a disposizione anche dal punto di vista del rapporto con la nostra realtà un importante aiuto va riconosciuto che la nostra cittadinanza ha dato e ha contribuito in tutti i modi possibili dalla scuola a doni in qualche modo che e quindi credo che sia un segno che nel nostro comune di San Michele a Tainamento in particolare anche da parte delle associazioni c'è tanta attenzione anche per questo mondo e il mondo della cultura friulana piange Walter Liva uno dei padri fondatori del CRAF di Spilimbergo il centro per la fotografia che è diventato negli anni un punto di riferimento nazionale e internazionale nella promozione e diffusione dell'arte fotografica a Liva mi legano ricordi personali perché proprio nel metà degli anni 90 in un momento difficile del centro la provincia di Pordenone fu determinante nel rilanciarlo portandola all'interno di un contesto istituzionale e legandolo all'Università di Udine ed in particolare al corso di studi in scienze multimediali di Pordenone appassionato animatore dell'arte fotografica ha vissuto in quell'humus culturale della sua città natale Spilimbergo animato di grandi figure tra le quali spicca quella del professor Italo Zagner ci ha lasciato all'età di 70 anni, da pochi anni era entrato in quiescenza ma la sua eredità è un patrimonio importante del Friuli e per questo gli dobbiamo essere tutti grati La mostra su Elliot Irwitt a Pordenone si sta rivelando uno degli eventi più intensi della vita culturale cittadina in servizio Grande presenza di pubblico per l'ultima straordinaria mostra organizzata in Galleria Herribertoia a Pordenone esposta è una quarantina di opere del gigante della fotografia mondiale Elliot Irwitt un mix di scatti celebri ma anche di fotografie inedite scelte personalmente dallo stesso autore per questa esposizione uno stile inconfondibile quello di Irwitt ironico, appassionato ma anche sensibile e partecipe nei confronti degli ultimi La mostra, promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Pordenone in collaborazione con il centro di ricerca e archiviazione della fotografia e con contrasto sarà aperta fino al 10 febbraio 2023 Una mostra originale e unica perché unisce foto iconiche e celebre di Irwitt con altre assolutamente inedite che vengono esposte per la prima volta in Italia qui a Pordenone e che lo stesso Irwitt ha tirato fuori dai suoi archivi e dai suoi cassetti Accanto alla mostra c'è una serie di eventi collaterali perché organizzeremo visite guidate al piano di sopra le foto di un concorso fotografico inservato ai giovani dai 15 ai 30 anni faremo anche concerti, insomma una serie di attività e poi la novità, il biglietto unico con un unico biglietto scontato si potrà vedere questa mostra la mostra al Palazzo del Fumetto e un'altra che inaugureremo tra poco a Palazzo Richieri e questo perché vogliamo trasformare i singoli musei pordenonesi nel sistema museale pordenonese La fotografia è l'occhio di un artista artista che, come diceva Benedetto Croce, deve interpretare liberamente la realtà del suo tempo Irwitt è uno degli occhi migliori che abbiamo avuto per raccontarci il Novecento Nelle foto di Irwitt, nella vita di Irwitt ci sono molti bambini, ci sono molti cani credo che chiunque possa riconoscere almeno un suo scatto Una mostra, dicevo, per tutti, veramente può essere letta con gli occhi di un bambino come un visitatore solo per il suo busto estetico ma può essere letta anche da un tecnico e uno storico della fotografia. Una mostra che è assolutamente minimale, ha 40 immagini però molte, veramente molte, sono inedite e quindi può esserci una lettura anche molto particolare di questa mostra. È una mostra che rende felici con tantissime immagini ma fa anche riflettere su tante altre. Accanto ad alcune immagini celeberrime che tutti abbiamo amato e continuiamo ad amare ci sono una serie di foto inedite, inedite che Elio Tervita ha ritrovato guardando sfogliando il suo archivio di tanti anni di lavoro e insieme sia le foto inedite che le foto famose creano degli accoppiamenti molto interessanti, molto importanti che ci fanno capire anche quanto lo sguardo del fotografo possa essere così costante così forte, così anche coerente nella sua visione lungo tutta la sua vita. Per chi visiterà la mostra sarà possibile ammirare anche il film realizzato dallo stesso Erwitt, Io abbaio ai cani, che racconta con ironia ed acume la sua esperienza di fotografo nel ritrarre questi animali. La mostra sarà aperta da giovedì a domenica dalle 15 alle 19. Per maggiori dettagli www.comune.pordenone.it E l'HRK Volley di Motta di Livenza purtroppo esce sconfitta dall'incontro con il BCC Castellana Grotte. L'intervista di Alice Bariviera a Leo Battista. Motta manca ancora l'appuntamento con la vittoria, questa sera c'era un avversario molto difficile perché Castellana Grotte comunque viaggia nella parte alta della classifica. Voi avete dimostrato di esserci sempre però? Sì, abbiamo dimostrato di esserci, però non basta. Purtroppo l'abbiamo visto anche oggi, peccato per quel secondo set, peccato anche come è finito il terzo. Ma soprattutto tanto rammarico per il secondo set, quando siamo sopra, è successo con Castellana Grotte oggi, è successo anche con Grotta sabato scorso, non riusciamo a schiacciare l'avversario e poi quando giochi contro squadre del genere è normale che vengono fuori e strappano via il set e la partita. Senti, il modulo con schiro opposto e corda sbanda sembra dare qualche frutto in più? L'abbiamo provato in settimana, è una cosa nuova provata in settimana. Oggi comunque forse ci sono state delle cose positive di questo nuovo modulo. C'è chiaramente da lavorare, non è una situazione semplice, però ci alleniamo e la proviamo. Sabato prossimo un'altra big perché si gioca a Bergamo? Sicuramente è una partita difficilissima, noi dobbiamo cercare di alzare il livello nostro di gioco e non pensare onestamente tanto al risultato ma a una crescita del gruppo, della squadra e di evitare errori semplici e di evitare magari di abbandonare i punti così come è successo nel secondo set. E il Pordenone Calcio incassa una vittoria in casa per 5-0 contro il Lecco e rilancia la sfida al campionato. Le dichiarazioni di mister Di Carlo e del calciatore Burrai. La seconda partita che riusciamo a esprimerci al meglio come gioco e anche come concretezza perché nelle partite precedenti abbiamo fatto lo stesso delle buone prestazioni ma di gol l'abbiamo visti un pochino meno. Chiaro che contro il Lecco sono stati anche aiutati da due tiri bellissimi di Pinato e di Duby che hanno sbloccato la partita perché il Lecco comunque abbiamo visto una squadra che come li lascia un po' di campo ti può mettere in difficoltà. Hanno avuto le due occasioni anche loro al primo tempo per farci gol. Siamo stati fortunati in quelle due occasioni. Poi la partita si è messa sui binari giusti perché il nostro Pordenone ha giocato, ha lavorato bene sulle fasce, ha chiuso tante azioni e abbiamo creato tutto quello che dovevamo creare e concretizzando il più possibile. Quindi un'ottima prestazione. Avevamo voglia di tornare a vincere davanti al nostro pubblico. Quindi complimenti ai ragazzi. Li avevo visti bene in settimana. Siamo tornati a vincere in casa nostra e questa è una continuità che fa piacere a tutti. Sì, siamo innanzitutto contenti del Primato perché l'avevamo perso. L'abbiamo ritrovato con due grandissime prestazioni. Si è visto in campo l'atteggiamento positivo, però positivo della squadra. Stiamo lavorando per questo. Siamo felicissimi nel momento. L'unica cosa da fare è continuare per questa strada perché dobbiamo rimanerci adesso da qui fino alla fine. E con questo è tutto. Grazie del vostro ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie del vostro ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.